Il senso che, siccome si considerava che ci fossero dei reggamenti, io credo che si considerava anche la richiesta di sospensione da parte del Consigliere del Consiglio, sarebbe opportuno se ci fossero altri reggamenti, oltre a quella società di istituzione, che i vostri possibiti adesso, che si possano considerare anche altri. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.